Restano purtroppo solo le immagini della prova generale di Notte di Stelle, lo spettacolo di Tons on the Stones in programma lo scorso sabato sera presso Tons Teatro Natura a Oira di Crevola d'Ossola e annullato all'ultimo a causa del maltempo. Il festival però prosegue. Da domani 27 luglio al primo agosto torna Next Tons, il festival internazionale nato nel 2014 che, alla sua tradizionale identità sperimentale nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica, incorpora da quest'anno lo spirito di ricerca e di indagine sul territorio di Before and After. La sezione si apre domani nello straordinario scenario di Gash con la compositrice e producer torinese Sara Bertz. Il giorno dopo, 28 luglio, ci si sposta in un altro luogo che non sembra appartenere a questo mondo, gli orri di Diuriezzo con il musicista e sound artist giapponese Tomoko Sauvage. Non mancheranno poi altri progetti site specific, workshop e performance itineranti sul territorio ossolano e Tons Teatro Natura fino a domenica. Grandissima attesa il 31 luglio, sempre nel Teatro Naturale di Oira, per la prima mondiale dell'opera multimediale The End of the World, firmata dal pianista ucraino Lubomir Melinik, la violoncellista canadese Giulia Kent e dal collettivo torinese Spim Im. Una performance immersiva di grande impatto. La partitura, come il titolo suggerisce, denuncia il disastro ecologico e ambientale che il pianeta Terra sta affrontando per mano dell'uomo. La serata si chiuderà con il DJ set ipnotico ed estatico della DJ e producer ADL. Il programma del festival prevede poi dal 6 all'8 agosto a Warnes Campus pratiche di consapevolezza nella natura e ancora una serie di appuntamenti musicali e a settembre il festival dedicato alla montagna.